Musica Carlo Alberto Carnevale Maffè, parlando di innovazione, qual è il contributo che può dare l'università? Formare persone che sanno fare i conti con se stessi, con i propri collaboratori e col mercato e sanno mantenere le promesse, ragazzi responsabili. Le idee contano un 5-10%, tutto il resto è durissimo lavoro, responsabilità e accountability. Io penso che sia questa la disciplina. Si forma col metodo, perché il metodo aiuta a essere rigorosi e strutturati. Poi sul metodo rigoroso e strutturato ci sta la creatività, l'energia e la forza, ma dietro servono i fondamentali. Si può insegnare l'innovazione? Assolutamente sì. L'innovazione è l'educazione dell'umanità. È un fatto collettivo e non pensiamo all'imprenditore eroico che ha la grande intuizione. L'imprenditore è il più grande ascoltatore. Fare impresa è essere tromba di austacchio, ascoltare e quindi imparare. Per cui sì, l'innovazione si insegna ma soprattutto si impara. E qual è dal suo punto di vista, dalla sua prospettiva accademica, il consiglio che si sente dare alle aziende che vogliono fare innovazione? Non a tutte le aziende conviene fare innovazione. Io non sono un celebratore dell'innovazione fine a se stesso. In certi casi, per esempio, quando devi fare standard è giusto che l'innovazione avvenga a gradini, pianificata. L'innovazione è il problema dei giovani e il problema di chi comincia, perché ovviamente non avendo rendite non ha di che sostenersi. Quindi alcune aziende hanno il dovere dell'innovazione, altre hanno il compito di integrare l'innovazione, di coglierla e innestarla su se stessi. Quindi l'innovazione è un compito distribuito in maniera disomogenea fra le imprese. Purtroppo le imprese grandi fanno più fatica e quindi bisogna avere la cultura di far partire start-up. Il progetto Working Capital mi piace perché la grande impresa crea l'humus industriale, non solo finanziario, comunicativo ma anche organizzativo, per far partire le start-up. Ed è una bella cosa. In chiusura, se dovesse definire l'innovazione in 140 caratteri, grosso modo, scegliere, impegnarsi con poche promesse e con molti risultati.